ok ciao a tutti e benvenuti in live oggi siamo qui con Emily Wilson sullo Santos Life Italia GTA 5 RP bene bene dottoressa Wilson ormai da un po' di giorni iniziamo a lavorare diciamo che sono già erlogato da un po' però ho fatto due interventi con interventini così però adesso vediamo di sopra qualche vita pure in live la macchina è rotta la cambiamo ok Grazie a tutti. Andiamo a fare una parella. Facciamo un alluncino. Grazie a tutti. 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 Qui ci sta non c'è posto migliore per rimanere che qui a garage centrale. Una roba... Veramente sempre... Gente che si muove qua e là... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao bacio... Non c'è posto migliore... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo un po' il passaggio della piaccia centrale... se c'è qualcuno che si muove... Ciao Demi... No... No... Buongiorno... Una persona sta andando molto, molto bene... Molto molto bene sta andando. Ci sarà qualcuno che si muove? C'è pochissima gente e poco lavoro per i medici. Sì. C'è pochissima. 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 Oh madonna. Oh madonna. Oh madonna. C'è pochissima. 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 Desiderio. Un plannerson. C'è pochissima. Un час. Vabbè arrivare tra poco. C'è pochissima. C'è pochissima. Eccolo. Lo sento. Apparinà tra poco. eccole eccolo andiamo sul tetto su 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 c'è uno che è caduto su si è barcato sei a metano sulla meds bank ok tu devi dare sali ok dai su quella stella se c'è di stella che c'è lì su non andare a vedere ok dovevo vedere qualcuno bloccato da qualche parte eccolo lì eccolo lì un corpo e allora tu da vicini io lo prendo al volo ok ok per di averci avvicinati molto ok scendi abbassati 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 ok abbassati ancora abbassati ancora abbassati 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 ok scendi quasi toccare ok perfetto e no devo riuscire a prendere no devo scendere mi sa devo scendere scendo rimani qui ok rimani qui avvicinati ok pronto saliamo ok vai ce l'abbiamo fatta portiamolo oggi in ospedale ottimo lavoro perkins perfetto andiamo grazie io vado allora si tanto ho ragione anch'io oddio è passato ce l'ho ancora no ah si ce l'ho si perfetto ciao ciao mamma mia che team io ok vediamo la sacca ok vediamo gruppo sanguigno ok gruppo sanguigno B perfetto ok procediamo con l'animazione bene controlliamo battito presente ma lento respirazione respira assigliano si ok respira ok procediamo con l'animazione 1 2 3 4 5 ok signore mi sente si sente bene signore magari le prendo una barella un attimo grazie ecco si sieda pure qui sopra la porto di là bene bene vuole chiamare il suo amico che era con lei e scendere un attimo dalla barella risalga per fuori che non la vedo bene e faccio un saltino anche a voi perché fa sempre bene fare un saltino ottimo va bene faccio un controllo dove le fa male la testa e le gambe principalmente ok il ginocchio destro va bene vediamo il ginocchio è un po' un po' un fio mi sa che ha preso una brutta botta prendo del ghiaccio ecco il ghiaccio guarda se lo mette se lo tenga sul ginocchio fisso ok ok poi dopo dove altre posti fa male la testa si c'è un piccolo taglietto qua sopra preferisco ricucirlo però vorrei fare anche un attack per controllare che non abbia i danni più gravi tanto ricucisco la ferita per non far perdere sangue e poi dopo facciamo un attack ok perfetto ok grazie farà un po' malino ok perfetto vengo la porta del sal attack mamma mia che team mi alzo perfetto si si alzi pure saca sul lettino facciamo saltino anche perché sta per bene perfetto sarà bene perfetto si mette proprio là ok si volti pensi al numero 195 mentre cerca di disdraiarsi ecco si sdrai sul lettino ecco la vedo sotto io ok perfetto faccio l'attack e poi a posto ok va bene grazie aspettiamo l'analisi ok tutto a posto perfetto bene signore tutto a posto non c'è nulla di che è tutto a posto forse sarà un po' la botta posso vedere se mi date magari una stampella però poggiando si sa che ha buonato si rialzi pure metta sul lettino la porta di no lì là in pronto soccorso posso dire sì grazie sì sì è da sto punto ecco ok va bene forse è pronto soccorso ok da qualche dolore qualcosa anzi scenda come sempre scenda dal letto e risalga perché ora non passiamo a distanza hai tanto problemi perfetto troppo l'entini è nostro problema mi sieda allora mi sieda diciamo che col ghiaccio non già mi ginocchio perfetto ok va bene allora tutto a posto se no sì devo prendere non so devo prendere qualche medicina guarda se vuole lei per scrivere un titolo orifico la prendere va bene grazie tanto mi rivesta ci si rivesta pure intanto allora posso avere un attimo per fare il suo documento che lo faccio contro la sua cartella medica ok ambrogio arrigoni non ha mai avuto un grosso intervento una reanimazione diciamo questa parola no non mi pare perché non esiste la sua cartella medica ve la schiface io un attimo ci vorrà solo un po' di più ci vorrà solo un po' di più che faccio la cartella adesso si chiama il suo amico si chiama il suo amico si chiama il suo amico Ultima cartella medica, ok, perfetto, allora, sangue non lo so, eh, sangue e biara, sì, l'ho rianimato prima, basta vedere il mio inventario, vediamo un po', 4-4, sì, sangue e biara. Ciao Pitchellux, va bene, ci vediamo stasera, ciao ciao. Ciao Pitchellux, va bene, ci vediamo stasera, ciao. Ciao Pitchellux. Ciao Pitchellux. Ciao Pitchellux. Ok, grazie per il follow Luca Farmer YouTube. Tanto se mi dice quanto è per tutto che vado a prelevare. Sono un totale di animazione, un attimo che l'ho fatto, andiamo a lasciarmi controllare, ha l'assicurazione sanitaria lei? No, no no. Allora sono un totale, sono 250 più 100 dollari di cure mediche che, quindi sono 350 dollari. Perfetto. 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 Ma dove cazzo è andato a prelevare sto qua? Eccolo, venga, venga Venga l'acetazione L'ho prelevato? Sì, sì, ho prelevato Dov'è che si preleva qui vicino? C'è... Nel parcheggio c'è un banco Ah, non l'avevo visto Ok, comunque Allora gli dia pure i soldi Ecco, questo è Deve ringraziare anche Deve ringraziare anche la polizia Che mi ha aiutato a guidare l'elicottero Ecco, se no adesso non ce l'avrei fatta Ringrazi Ringrazi da quando li vedrò allora Va bene, ringrazi pure il... Sergente Perkins era comunque la gersona che guidava l'elicottero Va bene, grazie mille A posto, allora guardi qui, dite la stampella Sì Grazie Posso chiederti un cerottino che ho comunque un antidolorifico? Certo, certo Guarda, ecco comunque Sì, sì, ti prescrivo l'antidolorifico Ora il cerotto è tutto Allora, comunque Ecco qui, guarda comunque Tini qui l'antidolorifici Da somministrare per i prossimi cinque giorni Ok, grazie La stampella Perfetto Ti passo che uno al giorno ne bevi E diciamo Dovevo spastarti ecco per il dolore Perfetto Grazie mille A posto, per tre cinque giorni torno Va bene, mi faccio controllare sia i punti che un attimo il ginocchio, ok? Torni iniziata tra cinque giorni Controlliamo il ginocchio Se è tutto a posto E i punti E poi istituisci la stampella Se in caso riesci a camminare Esatto, va bene, grazie A posto Ciao 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 perfetto ho scritto tutto sulla cartella medica possiamo tornare in servizio ho godinato a 1000 dollari ottimo perfetto perché ci hanno messo un banco ah no linee perché già quello lì c'è un banco mi stanno qui hanno messo un banco dove però questo è un banco no playstation cazzo l'hanno messo il banco ma cazzo l'hanno messo il banco ma porca troia sono rincoglionito io che non lo vedo l'ha simulato lui il banco ma perché non è che c'è spugliame che c'è qui vabbè il banco non esiste nel parcheggio non c'è veramente poi lì aspetta ah infatti si è durata lui però c'era un banco che parte non lo fa giù depositiamo i soldi che soldi ho madonna apicellux guarda se ho scritto le cartelle mediche ho fatto oggi sono scritte bene perfetto tolitto io scriverò tutto scriverò e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Anzi, non le miniamo questa, non mi piace. Anzi, non le miniamo questa, non le miniamo questa. Anzi, non le miniamo questa, non le miniamo questa. Oh, non c'è più nessun agente di polizia. Oh, non c'è più nessun agente di polizia. Oh, non c'è più nessun agente di polizia. Non c'è più nessun agente di polizia, non c'è più nessun agente di polizia. Da questo lato. Perfetto. Eccoci qua. Bene. Quante ne vuole fare? Ma, non so, è controproducente, eventualmente farne più di una, non so quante ne... No, non è controproducente, diciamo, può farne quante ne vuole. Ah, e facciamo due o tre, non so. Diciamo, di solito la gente ne dona da 5, 10, massimo 15. Allora, facciamo 5. Perfetto. Essendo la prima volta, magari va bene. Ah, no, va bene. Ognuno è libero di donare. La facciamo vedere l'ago. Eh, questo non ti saluto io, vado via. Va bene, ciao Pasquale, ci vediamo. Ok, stiriamo fuori il sangue. Non si preoccupi, non farà male. Ok, 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 perfetto. Ottimo, benissimo. Venga, ancora qui, un attimo. Metto via il sangue. Perfetto. Guardi, in cambio le diamo un omaggio degli sciroppi, ogni donazione fa uno sciroppo, quindi le diamo uno, uno, cinque sciroppi. D'accordo. Sono cinque sciroppi più uno in omaggio, da bere ora, così si può riprendere un po' le stesse da un po' debole. Perfetto, perfetto. Perfetto. Si può rilassare quando vuole, sì, è pure lì seduto se vuole. Va bene, perfetto. Va bene, perfetto, allora. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Luca, basta bestemmiare in live. Ma che cazzo dici, oh my god, ma va a fare una roba, va, va. Che so più bravo di te, so più bravo di te, oh my god. Pure il medico so fare. Grave, ciao. Mamma mia, sta suotando. Ma che è sto mortorio oggi? Mamma mia. Che cavolo, mamma mia. È una mortoria di gente, non c'è nessuno. No, sono usciti pure due dei poliziotti, sono usciti. Ma ora, mi ho aver girato molto bene. Sono state un po' di chiamate, un po' di cure mediche. Guardi, se guardi le cartelle che ho fatto finora, è tutto a posto. Non c'è stato molto movimento. Ho dato molte donazioni, tra cui anche a Totò. Ce l'ho fatta. Grazie. Grazie. Ciao. 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 i polisi i polisi migliori del mondo sotto fuori servizio si è lo so ma non è vero grave cavolo e tu non c'entri nulla grazie le donazioni che ho fatto a totò io ho fatto una donazione a totò sardo se lo far fare non l'ha mai fatto finora totò pesce anzi perché lo sardo era tantissimi ai mille anni fa intanto il fox sto venendo a fare le sue donazioni giornaliere 10 10 10 sacche di ab però deve recuperare un po di peso è persa no però può muore quello cioè perde peso del tutto avere poi palestra non so che fare mamma mia non so che ma vabbè piaciuto questo guarda non ti sei perso nulla di che la cosa più bella che ti sei perso è con la rianimazione lì sul tetto del della maze bank e basta non so che speriamo ci saranno un po più di chiamate un po più di cosa da fare comunque tra 13 minuti sta ancora live faccio un'ora di live così e poi oddio e poi stasera stasera poi c'è il nuovo live sperando ci sarà più lavoro e anche pochi medici che sennò poi il lavoro sarà niente annoioso ci sono un milione di medici tipo ieri sera eravamo in otto medici cioè ragazzi otto medici capi per chi è vecchio in questo server non si sono mai visti in questo server non si sono mai visti in online al suo momento mai c'è questo ospedale qui sta andando benissimo lo sta andando sì sì otto medici e zero chiamate invece c'è qualche wipe fa quando c'è qualcuno molto probabilmente lo sa milioni di chiamate zero medici milioni di chiamate un medico una roba questo wipe zero chiamate milioni di medici zero chiamate milioni di medici no una chiamata c'è stata quando io sono lo squintato che è intervenuto mi sembra gago e nello sono intervenuti sono andate su verso verso un sen di paletto non so dov'era verso le 11 circa sono veramente lungazzo lungazzo quindi non è spesso per spaventi non hai ma grazie per il follow ciao totò guardate totò testimonia in live che ti ho fatto delle donazioni testimonia che ho fatto 10 donazioni totò ha fatto 10 donazioni con me testimonia Doraemon testimonia totò in persona voglio un premio 10 donazioni fatte da totò bene bene no perché c'era una scommessa interna tra i medici io sono arrivato oggi ieri sono arrivato e ieri fa piccelux guarda che c'è una sfida interna c'è una sfida interna anche il primo che riesce a fare una donazione totò totò pesce vince un premio e ho detto non ti preoccupare che domani vincerò questo premio ho detto da piccelux tipo fa guarda giuro che se se riesce a fare ti do il mio cartellino al mio grado di diventi chirurgo e gli ho detto attento caro a far scommesse esagerate poi te lo vecchi te lo prendi in quel posto e guarda ta oggi totò arriva donazione fatte 10 ehi vabbè ma torni in palestra è proprietà della palestra ti manca qualche energy drink stai lì 10 minuti mi recuperi queste 10 sacche di sangue cazzo totò c'è oddio se non ero a e vabbè succede totò succede comunque totò cazzo ti ricordi ai tempi che erano che quando arrivavi lì facevi 50 donazioni quando vieni tipo livello 100 facevi tipo 50 55 donazioni ai medici e poi te ne andavi a fare la palestra di nuovo mamma mia che ricordi quelli sì che erano quelli sì che erano donazioni il medico partì da ospedale con le tasche vuote e rintrava con le tasche piene l'interno totò incassava sciroppine buco 180 donazioni hai fatto sì sì i paletti adoro ti raggi i paletti io gioco sullo santos life insieme a totò io totò lo conosco da quando sono entrato sullo santos life ovvero da ottobre 2018 sono qui da un anno e cinque mesi sì un anno e quattro mesi da tantissimo ragazzi tanto 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 un anno e mezzo quasi gli totò sono sempre stati amici nel server sempre ho fatto due wipe da civile due wipe da poliziotto più questo wipe è la prima volta che faccio il medico sullo santos life cioè la prima volta faccio il medico in tutti i server sinceramente non l'ho mai fatto una volta ho tolto la multa io e tu sempre pescatore totò sempre pescatore sempre pescatore totò per questo wipe invece sarà oh chiamata che gioia vediamo dov'è 911 servizio medico mi dica salve salve ma siete ancora disponibili per le donazioni certo sono sono adesso hanno fatto un giro con l'ambulanza però dove si trova lei perfetto arrivo all'ospedale facciamo la donazione perfetto e il prossimo wipe che faccio in Moslia o io l'unica cosa che dico non lo so il prossimo wipe farò qualcosa non ne ho idea cosa mi verrà in mente nei prossimi giorni quando avrò una data del wipe che finirà e quando poi incomincerà perché di solito ci vuole una settimana e mezza due poi lì deciderò non era lo scorso era il 6.0 hai comprato il tequila e poi poi wipe quando io ero con Manuela belli poi c'era Karen ancora lì quando quando hai quel wipe lì tu hai fatto un sacco di cose hai lavorato come pescatore hai andato a lavorare al mama al mama si è andato a lavorare al fare le le ciambelle allo yellow jack e poi si è venuto a lavorare lì e hai comprato il tequila salve 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 venga pure e poi c'è stato il wipe dopo due giorni che hai comprato il tequila eravamo insieme sull'ammer H1 stavamo salendo sul Monte Ciglia devi console chat riavvio con wipe tutto bene venga venga pure lei tutto bene ottimo ottimo si accomodi qui dentro mi prendo una barella un attimo non rimanga in piedi aspetta qui dentro mi ricordo che eravamo sul Monte Ciglia e stavamo andando su e se di console in chat riavvio con wipe per qualche minuto perfetto sacca mi si era da programmare moseley cosa hai intenzione di fare? va bene va bene perfetto anzi pure la manica faccio prima una piccola analisi del sangue se può darmi per favore una facciamo un predivino perfetto ottimo facciamo un controllo adesso controlliamo secondo se ho problemi con la macchina non si preoccupi capita a tutti l'importante è che ci abbiamo segnato noi a qualche parte esatto sangue a posso vedere solo commenti per favore e lo segno sulla database così poi lo sappiamo quando dobbiamo rianimarla così non c'è bisogno di per forza di dover portarla qui qualche secondo che segno cosa di poco legale ai 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 946 kjl non esiste ma non ma nessuno che ha fatto la cartella medica di sto qui mamma mia qualità ignazio fuma pecore fuma pecore 946 kjl kjl va bene non è segnato segnato tutto a posto è solo che ero io che non lo trovavo a pece alux aggiornate mettete il numero di registrazione quello è unibuco il codice fiscale spesso viene sovrapposto dal numero di telefono e variate cose che scrivono noci in chat quindi se volete usare dato che abbiamo stato dato a base sulla santos live sempre meglio usare il numero di registrazione quante relazioni vuole fare? 5 va bene ecco mi faccia fare il lago perfetto eccolo qui e tiriamo sul sangue non si preoccupi ottimo perfetto ok grazie mille un attimo solo prendono guardi il regalo del sciropping che ha dato che ha fatto delle donazioni grazie grazie gentile 5 donazioni vuole 5 sciroppi più 1 in omaggio perfetto ma cosa così se si sente bene puoi alzarsi e poi si può oppure iniziare a camminare tutto finito ti digio la manica perfetto allora arrivederci ci vediamo allora Gliore mi sente? certo certo mi rende qua ti rendi una mano ok perfetto allora non riesco più a prendere la cosa in mano la barella un attimo ok sposti fuori perfetto grazie a posto non riesco proprio vabbè se volete la porti no no me la porti me la porti di qua venga 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 pure di qua potevo fare un medico vabbè la meta qua dentro che qui non dà la stia nessuno è molto più utile la pisa lux perfetto a posto a posto così ma voglio pure dove vuole ecco qua perfetto grazie non riesco più a sono pesanti queste prenderle in mano mamma mia ah perfetto come la a posto comunque le stavo chiedendo di una volta si lei per caso ha sentito il signor Nicola ultimamente Nicola chi il medico il signor Nicola Nicola Gianattisio si 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 era ieri in servizio c'era ah ecco come sta è un po' che non è no lui benissimo più che altro la tua collega ecco sta un po' maruccio com'è la collega e il collega ha fatto che è successo eh dicevo che ha sbattuto la testa finito in coma per qualche giorno ecco però dovrà chiederle lui ecco io purtroppo non posso parlare di queste cose sono informazioni riservate posso dire solo che ecco ha sbattuto la testa ha avuto dei problemi ma questo quando è successo eh l'ho ritornato qualche giorno fa ecco si magari faccia una chiamata ecco magari se c'è in città potrà sicuramente rispondere eh non lo aspettavo neanche io sinceramente va bene allora arrivederci signore grazie per la sua donazione grazie figuri figuri l'onore oh signora che cazzo mettiamo via il sangue 9 9 di A poi prendiamo 1 di B perfetto abbiamo tutto vediamo un attimo le provette prendiamone 1 e 2 andiamo a buttare via quelle lì quelle analizzate nooo nooo mmm vabbò e siamo arrivati a 1 ora e 3 di live e sì quindi io adesso direi cosa concluderla a meno che non arrivi una chiamata ai medici in questo momento in cui mi interrompe mentre sto quittando ma non penso proprio teniamo fuori questa barella così possiamo eliminarla perfetto saliamo in ambulanza andiamo a parcheggiare e quindi ragazzi io vi ringrazio per essere qui con me in live vi ricordo di lasciare il follow se non siete ancora iscritti al canale vi seguimi anche su youtube fare punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi punto esclamativo yt per vedere il mio canale youtube iscrivetevi per vedere le repliche della live vi ho altri video che carico solo lì e boh ci vediamo stasera e buona buona no ytpcelox punto esclamativo yt punto esclamativo yt e iscrivetevi pure al canale ringrazio per essere stati con me e ci vediamo domani vi ho sto da un vecchio amico che gioca da un'altra parte vi ho sto da un mio amico che diciamo conosco bene eccolo qua post e eh capisci no non c'è una ragazza ah no mi chiedono tutti ciao ciao non c'è a te te l'are ciao 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 ciao